questo dolore è una cifra grande nel mondo non possiamo dire che non esiste sarebbe un atteggiamento di fuga un atteggiamento di nessun beneficio concreto per le nostre vite e per lo sviluppo della nostra coscienza così come pensare che noi siamo inermi di fronte al dolore o senza difese di fronte al dolore e sarebbe un altro errore perché ci renderebbe passivi ci renderebbe soggetti passivi ci renderebbe poco l'esperienza del dolore noi il dolore dobbiamo reagire dobbiamo combatterlo dobbiamo rispondere al dolore ma dobbiamo rispondere in maniera intelligente dobbiamo rispondere in maniera costruttiva meglio in maniera progettuale dobbiamo avere un progetto per rispondere al dolore dobbiamo avere una via dobbiamo avere una alternativa dobbiamo avere una risorsa più risorse e soprattutto uno scopo da raggiungere perché la stessa esperienza può infliggere dolore 1 ad a 5 a b 15 a c 30 a d 100 a e quella stessa esperienza non avrà gli stessi effetti su ciascuno dunque ciò significa che dipende da come noi ci predisponiamo a rispondere ad accogliere a trasformare a utilizzare quell'esperienza avete mai sentito e sicuramente ciascuno di noi di voi potrà dire di sì non tutti i mali vengono per nuocere ma bisogna saperli cogliere altrimenti nuociono e come non tutte le esperienze di dolore ci impoveriscono verissimo è verissimo ma dipende come noi le accogliamo noi possiamo imparare molto dall'esperienza di dolore anche nel rapporto con gli altri ma dipende che cosa ne facciamo di quell'esperienza come la utilizziamo quell'esperienza come ci poniamo di fronte a quell'esperienza ma non soltanto di fronte nel primo impatto quanto ci urta quanto noi siamo per dirla con dante tetragoni di fronte alla malaventura per dirla ancora in termini da rinascimento no non solo ovvero non solo dobbiamo resistere al primo urto ma senza rigidità assorbire in maniera adesso hanno imparato anche nell'industria automobilistica è una derivazione che viene da altre esperienze assorbire il colpo perché se l'oggetto è rigido ha un grande contraccolpo incassa il colpo in maniera più distruttiva se invece ci sono delle strutture che si accartocciano faccio per spiegarvelo in poche parole proprio perché voglio andare oltre l'importante che capiate senza che vi accartocciate nel dolore in maniera comunque da assorbire e da disperdere il colpo d'urto man mano che si avvicina a voi ma allora io chi sono sicuramente non l'epidermide sicuramente non i sensi e gli oggetti dei sensi sicuramente neppure la mente manas è sicuramente una nostra struttura che deve aiutarci ad assorbire il colpo senza avere un contraccolpo troppo forte infatti le persone più fragili sono quelle che si impermaliscano sono quelle che si offendano di uno niente sono quelle che per cambiare umore è sufficiente che che una parola sia detta in un modo in un altro sono le persone più fragili persone più bisognose sono le persone che soffrono di più che significa che dobbiamo diventare insensibili affatto perché se siamo insensibili non impariamo la lezione perché gli altri sono una straordinaria occasione per noi per imparare le lezioni noi dobbiamo imparare continuamente dagli altri dal loro comportamento dalle loro reazioni alle nostre azioni come noi guardiamo gli altri ma guardiamo davvero gli altri con lo stesso affetto con cui guardiamo a noi stessi se non è così abbiamo dei problemi e quindi 99 persone su 100 hanno problemi capiamo dunque se noi guardiamo agli altri come a noi stessi ma ce l'abbiamo le risorse le disponibilità di offrire agli altri quello che offriamo a noi stessi beh se uno va dal ragioniere dall'amministratore dal dal contabile gli risponde subito di no ma voi mica dovete andare a fare un conto di quel genere dovete pensare che le risorse sono infinite